Un cartello con una bomba che si trasforma in un cuore e sotto la scritta Senz'Atomica. Questa è l'originale iniziativa con cui il Consiglio regionale del Piemonte aderisce, su impulso del presidente Mauro Laus, alla mobilitazione per il disarmo nucleare. L'adesione dell'Assemblea piemontese alla campagna Senz'Atomica avviene in vista del simposio internazionale prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari e per un disarmo integrale il 10 e 11 novembre in Vaticano, dove con Papa Francesco sono attesi il segretario generale ONU Antonio Guterres, l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea Federica Mogherini e 11 premi Nobel. Un tema, quello del disarmo, particolarmente caro all'Assemblea piemontese che ha tenuto alta l'attenzione con il voto dei due ordini al giorno e, per voce del Comitato Diritti Umani, ha invitato i parlamentari piemontesi ad attivarsi perché l'Italia firmi il trattato di messa al bando.